Dan Bertazzo, argento nel Madison in coppia con Elia Viviani, una medaglia conquistata con i denti e con grande forza ad un passo dall'oro. Sì, diciamo abbiamo lottato fino alla fine, è venuta questa medaglia d'argento, sono felicissimo e niente, ci tengo a ringraziare prima di tutto questa famiglia che ormai non è più un gruppo di corridori ma ormai sono fratelli da Marco a Consonni con Elian, Elia, Buttazzoni, Scarpizzini che sì, siamo tutti uniti qua a puntare a ottenere qualcosa. E ringrazio anche quello da Marco che ha avuto l'onestà di farsi da parte e di dire che era meglio se correvo io e questa medaglia è anche sua. Qua niente, peccato per, sì, peccato, sempre un secondo posto a un mondiale però niente, perdere per un punto è sempre duro è andata così, posso solo ringraziare tutti e ringraziare il mio compagno Elia che è una persona fantastica sempre disposto ad aiutarmi, darmi consigli e ad ogni cambio mi passava la forza per crederci, crederci, crederci è arrivato questo secondo posto. Dai, va bene così e si punta l'anno prossimo. Grazie